Siamo a Interpac 2017 con Marco Ferrari D'Agrada, Sale Manager Liquid Inks Sun Chemical. Con la guida Brighter Ideas for Packaging, Sun Chemical offre una propria lettura su come sia possibile differenziarsi nel mondo degli imballaggi, grazie a idee innovative. Ce ne può parlare? Ottimizzare l'imballo è una delle sfide più sentite dalla filiera del packaging. Con la guida alle idee più brillanti per l'imballaggio, Sun Chemical offre una serie di soluzioni per rendere unico l'imballo, prendendo in esame quelle che sono le sei aree su cui converter e brand owner possono operare per migliorare la performance dell'imballo stesso. Mi riferisco in particolare al design, al mondo del colore, alla differenziazione del prodotto in fase avanzata, alla protezione del marchio, all'ecosostenibilità e all'impatto che l'imballo può avere sullo scaffale. Sun Chemical ha quindi sviluppato una serie di soluzioni che sono realizzabili ed efficienti, che permettono di soddisfare tutte le esigenze che la filiera del packaging deve affrontare. Il vostro stand è suddiviso in cinque zone che indicano le sfide che intendete affrontare. La tutela dei consumatori, il mondo del colore, la riduzione del peso, gli scarti alimentari e non ultima la consumer experience. Quali tra queste esigenze sono le più sentite dagli operatori del packaging? È veramente molto difficile fare una classifica anche perché ciascuno di questi temi racchiude altri aspetti molto importanti. Così ad esempio la tutela del consumatore si sviluppa attraverso la perfetta rispondenza alla normativa vigente in materia di sicurezza prodotto e alla tutela del marchio. E ancora, l'aspetto relativo alla riduzione del peso dell'imballo ha un impatto sia da un punto di vista economico nei costi di produzione dell'imballo stesso che da un punto di vista dello smaltimento del packaging a fine vita. Per quanto riguarda poi la riduzione degli sprechi alimentari, questa ha una valenza sia da un punto di vista sociale che economico. La consumer experience segna l'evoluzione continua che la società moderna vive nella relazione emozionale tra prodotto e consumatore. Il mondo del colore, infine, coniuga in maniera perfetta il concetto di riconoscimento e di identità del marchio. Tutti temi molto sentiti ed ugualmente importanti per la filiera del packaging. Quali sono le novità che Sun Chemical presenta a Giusteldo? Le novità sono tantissime. Nell'ambito della tutela del consumatore si va dal SunTag, che è un sistema taggante integrato per l'identificazione e l'autenticazione interattiva del prodotto, al sistema per determinare la presenza di contaminanti alimentari nelle confezioni, che è basato sulla tecnologia di infrarossi. Per quanto riguarda il mondo del colore, la SunColorBox, che è un set di attrezzi completo di applicazioni e servizi, garantisce la perfetta riproducibilità del marchio dal punto di vista del colore, ovunque, su qualsiasi substrato, grazie ad un processo digitale perfettamente ottimizzato. Nell'area della riduzione del peso presentiamo i prodotti della famiglia SunLam, quindi adesivi e rivestimenti per laminazione ad alta prestazione, caratterizzati da barriera d'ossigeno. Invece, nell'area della riduzione dello spreco alimentare, sono presenti i prodotti della famiglia SunBara AirBlock, anch'essi caratterizzati da performance di barriera d'ossigeno, e la pellicola di IC EasyPill, che ha nella caratteristica dell'elevata resistenza termica l'aspetto più permeante. Sempre in quest'area è possibile osservare come funziona il sistema di marcatura laser SunLase, che permette di apporre sull'imballaggio secondario codice a barre e QR di alta qualità. Per quanto riguarda, infine, il settore della consumer experience, si possono apprezzare i prodotti della gamma SunInspire, espressamente pensati per aumentare l'esperienza sensoriale del packaging. Come vede, una gamma di prodotti, servizi e soluzioni perfettamente in grado di soddisfare tutte le nuove sfide che la filiera del packaging deve affrontare. Grazie.